il maschera no, tanto il suo maschera il maschera a i 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 che ilusione no via va via davvero almeno l'ultimo ho preso o no? eh si te guarda quanta mia lo smancio perchè muoio frena 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 dai capito o no? 4 eh? 4 e 10 e lo chiude aspetta aspetta ho lasciato farmi così fuori no vabbè come vai su youtube anche te non è che ti scappi te no una mattina ho lasciato per l'altro fuori finocchi te lo metto un gol a finocchi ciao ciao buonanotte ancora qui no non è finito ha capito? su youtube ora mi vedo c'è tanto di questo come è vero vai se c'è guarda su qui ci sta 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 guarda su qui ci sta